Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi in questo nuovo video vi spiego come accedere ai sotterranei ovviamente in alto a destra del video ci sono un paio di guide su come arrivare in questi posti, c'è anche la guida su come arrivare all'abisso tra le radici, molto semplice ovviamente prima di fare tutto questo dobbiamo prima raggiungere questo fiume, ma prima di andare qua dobbiamo prima ammazzare un guerriero di nome Radhan quindi per accedere ai sotterranei dobbiamo uccidere Radhan così facendo arriverà un grosso cratere, c'è un grosso meteorite che farà un grosso buco nella terra e lì possiamo entrare nei sotterranei, quindi il guerriero da ammazzare è questo, non so se lo conoscete, un guerriero così come questo ho l'elmo, vabbè voi dopo vi faccio vedere il vestito completo, c'è una scorciatoia per arrivare direttamente lì perché noi dobbiamo regarci nelle terre di Kylet, quindi conosco una scorciatoia per farci teletrasportare subito lì grazie ed eccoci arrivati, siamo nella caverna dei parassiti, i famosi parassiti animaletti schifosi che non muoiono quindi questa è la caverna ragazzi, proseguite da questa parte perché dobbiamo uscire dalla caverna e poi possiamo andare direttamente lì, in quel punto di grazia che adesso prendo un attimo la mappa per farvi vedere una cosa ok, noi siamo qui dobbiamo andare che sempre dritto, fino a qua ok, fino a qua ok, siamo arrivati a questo pot, mi raccomando fate attenzione alle catapulte per i nuovi giocatori che adesso hanno scaricato il The Ring e non sanno dove andare questa è la guida completa su come entrare nel castello attraversare quella porta per andare a uccidere Radahan, parlando con un vecchio quindi ti consiglio di guardarla tutta fino alla fine ovviamente lì c'è un problema, quella ammazza i suoi compagni non capisco perché fa così lo fa ormai da quando è uscito il gioco attenzione al gigante che adesso si butta ecco già la spada che brilla c'è in mano quindi io adesso faccio un attimo il giro intorno al castello perché questa è l'unica entrata per accedere a quel castello e poi andare da Radahan ok, al castello di Manto Russo, non ricordavo il nome ok, ci buttiamo qua questo ormai mi fa il solletico attenzione al leone proseguendo da questa parte cerchiamo di non farci beccare dal leone questo portale non ricordo dove volta sincero, non ricordo proprio vabbè ed eccoci arrivati nella stanza riposatevi qui toccate la grazia se in questo caso c'è già una foschia entrate nella foschia e ammazzate questi due boss e poi proseguite io all'inizio non c'avevo questa foschia quindi non l'ho ammazzato né quel leone né quel guerriero non l'ho ammazzato quindi ho proseguito da questa parte ho parlato con un vecchio che diceva welcome cioè parliamo con lui poi ci fa vedere la storia di questo grande guerriero ci dirà di andare in quella porta e scendere giù usare un portale e poi ci porterà in quella grande terra ovviamente non è che sarete soli ad ammazzarlo potete evocare tantissimi spiriti tantissimi spiriti che lui ha ucciso tempi fa non so se lo vedete là sotto c'è un portale quel minuscolo portale scendete giù e vi porterà lì in quella terra una volta ammazzato come ho detto all'inizio ci sarà questo grande asteroide che colpirà quel punto della mappa che vi darà così l'accesso ai sotterranei ok? tutti questi sotterranei quindi l'asteroide colpirà a questo punto e potete entrare quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione se il video ti è stato utilissimo ti consiglio di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per non perderti altri tutorial simili su Elden Ring e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao